595, il gruppo, la pop-it-council Vieni, vieni, vieni Ciao Buongiorno 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 Ciao, buongiorno Federico 14 anni Federico 14 anni Anna 30 E Anna 30 Sono preoccupato perché non sanno se balla la musica Ok, proviamo a vedere se la musica E facciamo ballare Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione